Sarà presentato lunedì mattina al Cineporto di Bari, sede della Puglia Film Commission, il cortometraggio di Sabino Matera intitolato L'amore estremo, un film dalla durata di 23 minuti che affronta un importante tema, la donazione del sangue. L'amore estremo, spiega il regista, è la storia della vita che ricomincia in ogni senso grazie ad un gesto nobile capace di far rinascere chi riceve ma anche chi dona, al di là dei sentimenti di ripicca e di odio che a volte intossicano e rovinano l'esistenza. Tratta diciamo da una storia vera, l'abbiamo un po' alimentata, l'abbiamo arricchita con il mio compagno di viaggio Carlo Stregapede, il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Un contenitore dove si parla di tutto insomma, abbiamo racchiuso quello che è il vero tradimento tra una coppia, fede, religione e solidarietà, è quello di promuovere la donazione, invitare a voi tutti a casa a donare e la cosa più bella che mi onora in questo progetto e di aver riunito un connubio perfetto, quello che magari con una cattiva comunicazione tempo fa tra l'Avis, la Fratres e la Fidas che hanno promosso anche il nostro progetto, c'era quella rivalità, invece bugia. Hanno promosso insieme questo bellissimo progetto, un connubio, siamo stati veramente bene e cercheremo di spingerlo a più non posso per lanciare a tutti voi a casa e oltre alla donazione. L'idea nasce dalla volontà di promuovere la donazione del sangue, continua Matera, donatore della Fratres dal 97. Io sono un donatore della Fratres dal 1997 e ho vissuto tantissimi momenti, anche brutti direi, dove mi hanno chiamato, ero al posto di lavoro per un'urgenza, addirittura erano i piedi della morte insomma, io ho lasciato tutto per di donare e questa cosa mi ha segnato. Il film è stato girato tra Andrea Canosa e la borgata di Loconia, con il patrocinio della ASL BAT, l'Avis e Fratres di Andrea, Fidas di Bari, Gazzetta del Mezzogiorno, Provincia BAT, Comune di Ocesi di Andrea, Comune di Canosa di Puglia. Un plauso alla ASL, alla direzione generale, per aver concesso tutto il centro trasfusionale, di aver messo a disposizione tutte le attrezzature e quant'altro, poi la borgata di Loconia, è stata la casa madre dove abbiamo girato la maggior parte del film, un grazie a Don Peppino Balice che ha concesso sia la canonica che la chiesa per le riprese perché è un momento veramente particolare e poi grazie anche ai special guest, gli attori principali che sono Gianfranco Gengari, Angela Lenoci, Saverio Fiore e poi Giustina Bonomo che ormai tutti conosciamo nelle vesti del film di Checco Zallone, che bella giornata, Antonio Lorici e tanti altri.